Salve a tutti quanti, io sono Terenas e benvenuti a questo nuovo video dedicato totalmente a quelle che sono le migliori composizioni da giocare su Teamfight Tactics per la patch attuale. Ovviamente quando arriveranno i ribilanciamenti ci saranno dei cambiamenti e di conseguenza ci dovrà di nuovo andare a studiare e capire un attimo quali sono le composizioni più forti e quali sono le composizioni più deboli. Ma se rimanete e sintonizzateci su questo canale ovviamente ogni volta che ci sarà un aggiornamento avrete anche un nuovo video di questo tipo in modo per avere sempre le ultime informazioni. Se volete sostenere il canale un bel mi piace, un commento, una condivisione di questo video per mandarlo ai vostri amici e se avete il Twitch Prime passate su Twitch a supportare il canale. Ma ora immergiamoci! Questo non è un ordine di importanza più forte e più debole, semplicemente sono i primi a capitare nella lista. I Protector Mystic hanno una semplice strategia, t'anche di faccia i danni magici e hai una frontline colossale che continua a crearsi scudi e continua a ottenere cure e di conseguenza non muore mai. Lo scopo principale di questa comp è semplicemente una guerra d'attrito contro i tuoi avversari che non possono ucciderti col danno fisico perché vai a itemizzare per resistenza fisica sul tuo carrile principale e non puoi ucciderlo col danno magico perché hai i Mistici dalla tua che ti proteggono dal danno magico. Inoltre hai continue costante curi grazie a Soraka e grazie a Sona e di conseguenza diventa mostruosamente difficile da gestire. Una delle più complicate da gestire in assoluto per ogni tipo di composizione perché la forza di questa composizione sta nel sopravvivere così tanto grazie alle opzioni difensive che vai ad ottenere sul tuo carrile principale che è Xin Zhao. Xin Zhao solitamente lo andrei a fare a tre stelle e il tuo focus devi ottenere tre stelle Xin Zhao se no è molto improbabile che tu riesca ad arrivare in fase avanzata di partenza. Lo fai con la Bramble Vest, il Denti di Drago e la Quicksilver Sasho. Si trova comodo comodo felice felice e la Quicksilver. In pratica lo rendi questa frontline disgustosa e immortale che continua a tancarsi controlli, danni fisici e danni magici di faccia e viene curato da Soraka e Sona. È questa la sua forza. Lui come frontline è veramente difficile a gestire. In tutto ciò hai l'effetto dei Protector dato da Nico, Jarvan e Rakan e anche quel piccolo bonus dei Celestiali che vai ad ottenere grazie al fatto che hai già Rakan e Xin Zhao. E nelle fasi più avanzate se hai magari un Celestiale come oggetto da mettere su Jarvan oppure una Luluda Ultra Late Game diventa veramente difficile a gestire questa con perché oltre ad avere il sustain naturale di Soraka e Sona hai anche il sustain dei Celestiali, cosa non da poco. Le posizioni principali sono molto semplici. Metti Jarvan, Nico e Xin Zhao in frontline. Karma la vai a selezionare per potenziare proprio questo Xin Zhao e ti va a chiudere i quattro mistici di conseguenza. Rakan lo metti come backline. Lo tieni con il Morello e lo lanciai i Shojin perché costa... 150 mana la sua spell e vuoi applicare quel Morello nomico nadaria con il suo knock-up gigante estremamente utile. Jarvan è molto comodo da tenere, se riesci a trovarla a tre stelle è fantastico per la velocità d'attacco che dà ma non è fondamentale. I due pezzi fondamentali dei tre stelle sono Rakan e Xin Zhao. Per il resto tutto a due stelle e sei più che contento di quello che ottieni. Nella backline mantieni ovviamente Soraka, Sona e Lulu in modo da attirare possibili assassini che vanno in backline, i filtrators. E in generale non dovresti soffrire troppo quelle composizioni. Anche in quel caso puoi andare semplicemente a inserire un Jarvan che stia totalmente indietro perché comunque Rakan, Nico e Xin Zhao come frontline. È abbastanza adattabile il posizionamento, ma questo è quello standard solitamente. Un'opzione alternativa, se non hai bisogno di sustain ma hai più bisogno di danno perché magari non trovi Xin Zhao al 2, al 3 o non trovi Rakan al 3, puoi andare a optare per togliere Soraka e Sona e inserire dentro Ash e Jin. Lo scopo in primis è perché ti manca quello Xin Zhao colossale al 3 e quindi anche se gli dai sustain non riesci a trovare una soluzione che funzioni perché senza Xin Zhao al 3 non va altrettanto bene. Non performa al 100%, hai bisogno proprio degli specifici pezzi altre stelle che sono Rakan e Xin Zhao, ancora una volta. Brawler Blasters, che ricorda moltissimo quella che è la vecchia Brawler Jinx, proprio perché c'è Jinx all'interno di questa composizione, quindi è da banana. Chi l'avrebbe mai detto? Brawler Blaster è Brawler Jinx. Sì, Brawler Blaster è Brawler Jinx in pratica, non sto scherzando. È abbastanza assurdo vedere che è tornato in un modo o nell'altro. Allora, come frontline principali hai Chogat e uno verrebbe da pensare Malphite e invece metti Blitzcrank e V, scopo principale, prendere tempo per mettere a questa Jinx e Miss Fortune di trovare il loro DPS necessario. Jinx deve uccidere l'avversario e poi comincia a fare danni colossali ad aria, Miss Fortune deve caricare la sua Suprema e una volta caricata sei a posto. Ezra e Lucian non sono utili soltanto perché ti danno l'effetto dei 4 Blaster, ma hanno anche un effetto molto interessante da loro. Lucian può prendere tempo contro gli Infiltrators perché continua a kaitare utilizzando il suo scatto. Ezra invece, con quello che è il suo impulso elettromagnetico, va a rallentare la possibilità dei suoi avversari di castare le spell. Di conseguenza l'autoconsidero anche molto molto forte e molto importante da ottenere a due stelle, ma gli oggetti li andrei tutti a investire ovviamente su Jinx e Miss Fortune. Su Jinx andrei a prendere il Giant Slayer, l'Angelo Custode e anche il Red Buff perché il Blaster va ad applicare ad aria tutti quelli che sono gli autoattacchi possibili. Per quanto riguarda Miss Fortune invece vuoi cercare di farla sopravvivere il più in fretta possibile, il più a lungo possibile, quindi gli tieni una Quicksilver. Vuoi farla castare la Suprema più velocemente possibile, quindi doppia lacrima della Dea. E se ottieni anche l'effetto dei ribelli, male non ti fa perché a questo modo hai comunque l'amplificazione del danno attraverso Malphite e Jinx, sia su Miss Fortune che su Jinx perché ovviamente essendo quel triangolino qua sotto qua possono potenziarsi l'un l'altro. Ovviamente questo posizionamento in cui tieni Malphite come principale front line quando l'applichi lì potrebbe anche essere Blitzcrank. Se hai Malphite e hai l'effetto ribelli su tre, tieni Malphite dietro, se no lo metti davanti per un motivo, perché devi evitare che gli infiltrator saltano subito addosso a questi due carry principali, uno, e due il fatto che nel momento in cui hai l'effetto dei ribelli puoi fare quel triangolo di potenziamento tra l'uno e l'altro, molto semplicemente. Nel caso, nel caso purtroppo in cui ti manchino magari dei brawler perché vedi che Malphite è stato selezionato da tanti altri, visto che è cybernetic, viene spesso e volentieri rirasciata dai cibernetici, puoi prendere anche scene trash come soluzioni alternative perché ti danno l'effetto crono e di conseguenza puoi andare a sfruttare molto bene l'effetto se il combattimento dura abbastanza a lungo, soprattutto per Jinx e Misfortune. Non è malvagio, è un buono splash visto che hai anche già Blitzcrank e Ezreal e quindi porteresti il crono a 4 dopo che ce l'hai già a 2 da Blitzcrank e Ezreal. È un investimento e un azzardo che ti puoi permettere quando sai per sicuro che V non riuscirai a ottenerla almeno al 2. È una scommessa però. Cybernetic Blademasters, una delle composizioni più complicate in assoluto da giocare, proprio perché, allora, i cybernetic sono forti per un semplice motivo, perché vanno ad ottenere attacco fisico e vita nel momento in cui gli metti degli oggetti addosso. Di conseguenza hai un'enorme flessibilità a livello di oggetti totale perché puoi mettere oggetti su più e più campioni in modo da sfruttare appieno questo effetto, soprattutto sui cybernetic dovresti mettere un oggetto su ognuno quando possibile. Il problema principale è lo scaling. Devi riuscire ad arrivare al livello 8, devi trovare quell'ecco che è fondamentale per la composizione. Puoi chiudere con Kyle e Misfortune in modo da avere i blaster e avere le Valkyrie, che non è affatto malvagia come effetto, il focus principale ovviamente è quello sui blademaster in modo da poter ottenere in maniera efficace tutto ciò di cui hai bisogno, perché hai comunque Fiora che non è fondamentale ma ti attiva l'effetto di blademaster e il grosso degli oggetti lo tieni su Irelia. Lei è il tuo carry principale in questa composizione. La difficoltà nel raggiungerla è il livello di ecco, perché ecco devi arrivare al 7, all'8, al 9 per ottenere i leggendari, e non è per niente facile da trovare, visto che è molto conteso come pezzo in generale, essendo un ottimo infiltrator e anche perché ovviamente i cybernetic sono una composizione che provano molte molte persone e di conseguenza molto contestato. Gli oggetti in primis vanno su Irelia, BT, Angelo Custode e Infinity Edge. Per il resto ogni cybernetic puoi mettere gli oggetti che vuoi con due pezzi molto importanti. Lucian e il red buff perché ottiene l'effetto dei blaster con Misfortune e V ottiene invece quella che è la Ionix Park in modo da andare effettivamente a ridurre la resistenza magica degli avversari e permettere alla propria backline di fare danno magico in tutta tranquillità. Come frontline ovviamente vai ad utilizzare V, Fiora e Leona, visto che sono i pezzi non dico più sacrificabili, ma quelli non fondamentali alla composizione. Sulla backline metti Misfortune e Kyle, con Lucian che si mette in mezzo per provare a tirare gli infiltrator avversari, essendo un bersaglio meno importante a confronto con Misfortune e Kyle. Kyle che va a proteggere insieme ad Ecco, tra virgolette proteggere, perché Ecco ovviamente salterà in avanti, vanno a proteggere Irelia che lei è il focus, lei deve essere protetta a tutti i costi. Kyle comunque ha i suoi autoattacchi della gittata e di conseguenza stare dietro non è un problema per lei, ma Irelia deve attendere, deve stare attenta e nel caso in cui qualcuno provi ad attaccare e saltare sulla backline, lei può gestirlo senza problemi, avendo l'angelo custode, i sostegni della BT eccetera eccetera, il dresseria backline no, non può, assolutamente. Mech Infiltrator, questa è la composizione robottone più assassino sciaco, è molto semplice, molto efficace, è abbastanza facile anche da andare a, nemmeno itemizzare, ma semplicemente preparare, per un motivo, perché è una di quelle composizioni in cui ti trovi totalmente a tuo agio con una varietà colossale di pezzi, sei facilmente adattabile a quelle che sono le varie situazioni, e in generale non lo stanno lasciando molti, il che lo trovo abbastanza curioso, tanti vanno per Rebel Demolitionist oppure altre composizioni come i Cybernetic, o ad esempio i Protettori. I Mech Infiltrator sono una delle comp che forse è esperienza mia, ma in pochi vanno a fare, molti meno di quanti vadano a fare le altre composizioni, forse perché hai paura di scalare male, ma adesso in early game puoi anche tranquillamente andare di economia e portarti ad arrivare a un livello necessario per ottenere quello sciaco a livello 3. Non lo so, è curioso vederlo così poco usato e volevo farlo notare. Sciaco è il carry principale insieme al robottone, ovviamente, sciaco con BT Infinity Edge fondamentale, l'Angelo Custode ti aiuta moltissimo nel caso in cui tu venga barstato, ci sono anche alcuni giocatori che lo giocano con quello che è la lancia di Shojin per applicare più spesso possibile il salto e di conseguenza il critico che ne deriva. Ci sono tante scelte, non mi permetto di giudicare, anche se quella più efficace a tutto tondo, alla fine risulta Angelo Custode, BT Infinity Edge per potenziare i critici, per avere un sostegno colossale e nel caso venissi barstato puoi tornare in vita e saltare via direttamente con la tua abilità. Il robottone, ovviamente, gli oggetti li puoi andare a mettere sia su Fizz che su Enny. Enny li vai a mettere su Enny nel caso in cui tu hai Enny a tre stelle. Se tu vedi che hai Fizz a due stelle e un Enny a due stelle che non sei riuscito a completare, due domande cominci a fartele e cominci a mettere gli oggetti su Fizz, visto che comunque nelle fasi avanzate di combattimento può risultare estremamente forte essendo un infiltrator lui stesso, quindi ottenendo il bonus a quattro in cui ottiene la velocità d'attacco ogni volta che un avversario lo va a eliminare lui o contribuisce alla sua eliminazione. Per chiudere le Valkyrie hai quella Kyle inserita per supportare Kaiza e ovviamente Gangplank viene inserito per l'effetto dei Demolitionist in generale perché Gangplank è disgustoso. Se poi avete Gangplank e un modo per inserirlo all'interno della vostra composizione, fatelo. È forte. Nerfate Gangplank, per favore. Ovviamente se non trovate eco potete utilizzare Kha'Zix in modo da mantenere l'effetto degli infiltrator attivo. Solitamente terrai il Kha'Zix finché non trovi eco di norma. Di norma. Ma è possibile ovviamente. Quindi adattatevi come meglio credete. C'è chi utilizza anche Lux nelle fasi più avanzate per avere quella Dark Star Source. Non lo so, non sono un grande fanatico. È un'alternativa che può funzionare come fallire miseramente. E arriviamo alla composizione che... Allora, io non sono un grande fan nel definirla una composizione di TRS per un motivo molto semplice. Rebel Demolitionist è una delle composizioni più facili da fare e di conseguenza si autonerfa da sola. Cosa vuol dire questa frase? Rebel Demolitionist è quello che rushano tutti. Se in una lobby vedete quattro persone che rushano rebel sono degli idioti. Tutti e quattro. Non, 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 che sarà uno di quei quattro a vincere. Ma anche quello che si è messo in quella posizione di cominciare subito con Rebel come focus principale. Parca miseria. Ma perché? Ma perché? Rebel Demolitionist non è così facile da giocare come tutti pensano. Ok, puoi fare slow leveling per arrivare fino a livello 8 per ottenere Aurelion Sol e Gangplank e Lulu se riesce a inserire anche Lulu proprio perché sei miracolosamente arrivato fino a quella fase. Ma il punto è quello. Hai bisogno di due leggendarie perché questa composizione funzioni. Non è così facile. Soprattutto con Gangplank è uno dei più contestati. Aurelion Sol ancora ancora viene contestato solo dai rebel perché è un ribelle funziona da dio immetti l'effetto di Demolitionist è fantastico. E fino a qua ci siamo assolutamente ma trovo veramente assurdo che ci sia questa convinzione che sia totalmente allora è forte e non sto dicendo che non sia forte è mostruosamente forte una volta che è online. È arrivarci che non è così semplice come tutti la fanno. Eh vabbè ma dai ma là po' sei un po' drammatico. È che sono convinto che molti ci caschino più facilmente di quello che di quello che è non è disgustosamente forte a prescindere fin da subito che dici scalami bene in ogni singola fase e allora sei a posto. Tutto al contrario secondo me sinceramente è proprio una di quelle composizioni che devi trovare i giusti spike ai giusti momenti devi trovare comunque i buoni pezzi già dalla fase iniziale e hai una marea di persone che te le contestano questi pezzi perché hai Malphite contestato nei brawler hai Ziggs che nei Demolitionist con gli Filtrator viene utilizzato Sona che viene utilizzata nei Mystic Protector ancora Jinx all'interno dei brawler con Jinx vabbè lasciamo perdere ormai quindi non è così semplice come molti la fanno e non è per sminuire il valore di questa composizione è che voglio che se volete giocare a questa composizione state attenti e tenete conto del fatto che ci saranno tante persone all'interno della lobby che vi contesteranno questi pezzi se vedete che nessuno sta facendo Rebel Demolitionist ovviamente fatelo perché è disgustosamente forte nel momento in cui è online è veramente fucking busted e che arrivare a quel punto non è poi così semplice ovviamente gli oggetti da ottenere categoricamente sono il Demolitionist per Aurelion Sol Morello Novicon per andare a applicare il Morello Novicon ad area Gangplank con l'Angelo Custode per rimanere in vita e se inserisci Lulu come chiusura totale di questa composizione la lancia di Shojin le permette di attivare la spell più spesso e di conseguenza essere mostruosamente più utile per mantenere l'effetto di Demolitionist puoi utilizzare Rumble come puoi utilizzare qualsivoglia cosa sincero qualsivoglia cosa Demolitionist per ottenere Aurelion Sol che stunna tutti quanti costantemente con i suoi con i suoi missi con le sue navicelle che dire signori e signori questo è quanto per quanto riguarda questo video ancora una volta vi ricordo se volete supportare il canale basta un bel commento un mi piace una condivisione con i vostri amici di questo video se vi ha aiutato e ovviamente se avete Twitch Prime potete passare su Twitch a fare la sub per supportare il canale e supportare il progetto grazie mille a tutti quanti io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video